Pescara Bici torna a manifestare la sua contrarietà al parcheggio delle auto nel periodo estivo lungo la strada Parco, ma questa contrarietà è suffragata da un sondaggio che era stato fatto da Pescara Parcheggi lo scorso anno, è vero Presidente? Il Comune ha realizzato, ha somministrato questo questionario gli anni scorsi, quindi 2016 e 2017, a tutti i conducenti delle auto che hanno parcheggiato sulla strada Parco escono fuori dei risultati che cozzano, che veramente contraddicono tutte le intenzioni dell'amministrazione, che dice che vuole favorire l'afflusso delle famiglie, ma in realtà dentro le automobili ci sono in massima parte una o al massimo due persone. Sono tutte persone giovani, ma soprattutto si vorrebbe favorire, secondo l'amministrazione, si vorrebbero favorire le persone che vengono dai colli, quando invece poi da questo questionario si evince che 85 delle 1490 automobili provengono dai colli, quindi è una percentuale assolutamente irrisoria. Peraltro le automobili provengono tutte, sempre secondo il questionario, provengono tutte dal centro di Pescara, certo qualcuna da Montesilvano o da Spoltore, per cui non capiamo proprio assolutamente, ma soprattutto siamo contrari ai parcheggi per tutta Pescara, perché i parcheggi portano solo automobili. E se è vero che l'amministrazione ha deliberato attraverso il PUMS, quindi il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l'assoluta diminuzione del 50% delle automobili, l'aumento del trasporto pubblico, e quindi anche l'aumento della ciclabilità, non capiamo assolutamente da dove vengano le ragioni del parcheggio sulla strada parco. Ma di questa strada parco, secondo voi, cosa bisognerà fare in futuro? Non bisogna fare niente, la guardi, guardatela, la strada parco, la usiamo in tantissimi, per cui la strada parco può rimanere con me, perché è un primo pezzo del leggero passante che immaginiamo e che anche il Comune nei suoi progetti immagina, del leggero passante che attraversa tutta Pescara.